La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Dopo Huawei, nella blacklist americana, finisce un'altra società cinese a cui l'Italia ha dato in passato libero accesso ai propri porti di Trieste e di Genova. Parliamo della China Communication Construction Company che il segretario di Stato americano Mike Pompeo accusa di corruzione e di distruzione ambientale. Bene, quale sarà l'atteggiamento adesso del nostro esecutivo tenendo presente che proprio ieri sul blog di Grillo a capo del maggior partito al governo è apparso un durissimo attacco agli USA ed in favore della Cina. In un articolo che nel titolo faceva appello all'esigenza da parte dell'Europa e dell'Italia di contenere quella che è stata definita l'irresponsabilità statunitense. Sottolineando che rafforzare i rapporti diplomatici tra Cina e Europa è ora più importante che mai per evitare che gli esiti negativi di una nuova guerra fredda voluta e alimentata da Washington. Quindi tutte le responsabilità dello scontro in atto tra Cina e USA vengono riversati sul blog di Grillo contro gli Stati Uniti d'America. Continuiamo in pratica a giocare col fuoco rischiando che l'America, come ha già annunciato, interromperà i rapporti di intelligence con i paesi che aprono alle aziende del dragone bandite dagli americani perché ritenute un pericolo per la sicurezza. restando quindi tagliati fuori dal circuito delle informazioni sensibili. Bene, chi ha autorizzato questa scelta di campo così netta? Gli italiani sono al corrente del fatto che stanno per finire definitivamente nella morsa del dragone, appoggiando quindi una dittatura comunista e globalista allo stesso tempo, ossia quanto di peggio si possa immaginare. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.